Ciao a Betis.it, quando ho chiesto a Berni come mai dovessi fare le video recensioni così mi ha detto che era una settimana che stava studiando lo spot per le video recensioni di Betis.it con gli organizzatori della festa del cinema di Roma, con gli organizzatori della dodicesima edizione della festa del cinema di Roma, quindi non capisco cosa ho fatto a Berni per meritare tutto ciò. Comunque, torniamo qui piegati, mortificati ma sì anche umiliati per commentare, tornare a commentare da inviati di Betis.it questa dodicesima edizione della festa del cinema di Roma. Allora, la Francia, ok, le bionde. Oggi è il giorno delle bionde. Sandrine Bonner e Margot Robbie, una francese e una australiana. Prendre la large, salpare, è quello che fa Edith, la protagonista del bellissimo film Prendre la large, Catching the Wind in inglese, in italiano non lo sappiamo perché ancora non è stato acquistato per la distribuzione. E' Sandrine Bonner, grandissima attrice francese, classe 1967, due vittorie su 8 nomination ICSAR, esplode all'inizio degli anni 80 e qua la vediamo operaia tessile dislocata in Marocco. Le dicono in Francia, le cose sono due, o perdi il lavoro o te ne vai a lavorare in Marocco. Lei ha un figlio gay che non la invita nemmeno al matrimonio con il suo compagno. Lei è una francese molto atipica perché è lontana dal progressismo, è completamente distaccata da questo figlio gay, il personaggio di Edith, di Sandrine Bonner. Cia è Arcigna, vive in campagna, è sola, è completamente apolide nel suo stesso paese e infatti risponde, stupendo tutti, anche noi spettatori perché il soggetto devo dire che è geniale di Gael Morel, risponde, sapete che c'è Cevado a Tangeri e quindi prende, va in Marocco e va a lavorare con le marocchine. Allora il film è geniale perché vediamo una francese sindacalizzata, giustamente sindacalizzata, ma anche stacanovista, forse anche traumatizzata, con un complesso dell'Ettra, grosso così come Sofia Coppola, perché il papà era uno che lavorava sempre e lei è una che lavora sempre. E allora mi sono chiesto, ma perché? Perché Edith si è staccata dal figlio? Forse il figlio voleva che fosse diversa. Ho pensato molto a questo bel rapporto tra figlio gay super ricco e super progressista e questa madre veramente arcigna, quasi ottusa, cocciuta, con una fronte gigantesca. La Bonner è addirittura molto brutta all'inizio del film e fa questa donna che non chiede simpatia, che non chiede la simpatia dello spettatore, prende, va in Marocco. Noi stiamo con lei e però vediamo a un certo punto come lei interagirà con le colleghe dell'industria tessile marocchina dove va a lavorare e con la società marocchina. Ed è un film senza nessun tipo di luogo comune, anzi è un film su un luogo particolare e sempre nuovo che è la società quando la si analizza con correttezza e onestà intellettuale. E quindi lei incontrerà persone simpatiche, incontrerà persone antipatiche, incontrerà persone buone, incontrerà persone cattive. Lei stessa scopriremo qualcosa di più di questa Edith, la quale appunto è veramente rocciosa, è impenetrabile. Farà amicizia con delle donne, litigherà con delle donne, farà amicizia con degli uomini, litigherà con degli uomini. E poi sempre questo, come sapete, poi indissolubile e comunque non evitabile rapporto con il figlio, quantomeno all'interno del bel film di Gael Morel. Allora è un film che racconta come noi europei ci dobbiamo adattare anche al mondo che cambia. È un film che racconta di una migrazione al contrario. Siamo sempre abituati a sentire dei nostri amici africani che vengono da noi. Alcuni sono anche molto terrorizzati da tutto ciò, è semplicemente inevitabile perché i flussi migratori sono qualcosa di inevitabile. Quindi è bello vedere una bianca che va lì e infatti anche il film diventa quasi una commedia perché lei stupisce molto anche questi marocchini che la vedono camminare e passeggiare per le strade di Tangeri. Mi sono innamorato di Edith e anche di Sandrine Bonner per come la interpreta. Qualche titolo di Sandrine Bonner fondamentale senza tetto nel legge 1985 Agnès Bardà. Ed era una vagabonda lei lì, era una giovane vagabonda. Qua mi piace vederla come vecchia vagabonda. Poi è stata Giovanna d'Arco per Jacques Rivet e Il buio della mente dove lavorò vicino alla sua eterna rivale. Un po' più grande di lei, Isabelle Huppert, Il buio della mente di Claude Chabrol. Ma la ricorderemo anche, lei che è un pochino, è diventata anche regista, ha fatto un bellissimo documentario su sua sorella. Adesso questa signora classe 1967, la rivediamo in questo bellissimo film francese, rappresentare veramente un simbolo di una Francia che deve essere adattabile e pronta eventualmente a cambiare completamente vita, a seconda di dove tira il vento. Pronta a salpare e pronta a seguire la direzione del vento. La direzione del vento nella geopolitica, nella storia dell'umanità e del mondo può molto spesso cambiare. Ciao Betteist.